Una frase di una canzone che abbia molti caratteri, numeri, punti esclamativi o punteggiature che sono difficili da combinare e da trovare. Un paio di numeri, un po' di punteggiature e magari scrivere qualcosa di non troppo banale. Fare la meno lunga 15-18 caratteri e mettere lettere, maiuscole, minuscole e anche un po' di numeri. E' importante mantenere segrete la propria identità sui social. E' anche come proteggere meglio i miei dati e tutte le mie password. Adesso ho anche imparato, grazie a questa esperienza, come si fa a rispondere a magari gli haters o le persone che ti cercano di giudicare, buttarti giù. Ho imparato cos'è la privacy e che bisogna stare attenti. Non devi dare informazioni personali a persone che non conosci. Ho imparato come proteggersi su internet, evitando magari di farsi rubare dati sensibili. Se possono clonarti l'account da oggi, mi sento anche più sicuro quando navigo. Grazie a tutti.